Ilari Blasi parlerà del suo divorzio da Francesco Totti. Ma quando la vedremo? E dove? Tutti i dettagli all'interno. Ilari Blasi parlerà del divorzio da Francesco Totti in televisione, in un'intervista esclusiva. Ma quando? E dove? Leggi anche, Totti e Noemi Bocchi beccati di nuovo insieme, nuove foto di chi Ilari Blasi parlerà del divorzio da Francesco Totti in tv Ilari Blasi è ambitissima e non solo dagli uomini. La ex moglie di Francesco Totti parlerà del divorzio dall'ex calciatore in una sua intervista esclusiva. Ma quando? E dove la vedremo? Dagospia ha dato l'indiscrezione tramite il suo portale, Ilari Blasi, quindi, sarebbe in trattativa con la rete, ma non avrebbe ancora accettato alcuna proposta. Solo pochi mesi fa, infatti, la conduttrice romana aveva parlato dei pettegolezzi sulla sua relazione con Francesco Totti in ben due salotti televisivi, quello di Verissimo e quello di Belve. In entrambe le occasioni Ilari aveva smentito le voci sulla crisi del suo matrimonio e sul presunto tradimento. A distanza di poco tempo, però, le notizie si sono rivelate vere. Il rapporto con i social Ilari Blasi, così come anche Francesco Totti, non sono mai stati amanti dei social. Entrambi i divi li hanno sempre usati con grande parsimonia, se da un lato il pupone ha continuato a essere poco presente su Instagram, dall'altro la sua ex moglie è diventata una vera e propria star del web. Ilari infatti non smette di postare foto e video delle sue vacanze estive insieme ai suoi figli, mostrandosi bellissima e sorridente. Secondo i suoi amici più stretti il motivo sarebbe uno solo, l'ex moglie di Francesco Totti non vuole apparire una donna ferita e tradita. Ecco cosa hanno dichiarato in una recente indiscrezione riportata da DiPiù, seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.